I problemi sono tanti e vanno affrontati quanto prima per evitare il collasso totale. La struttura del Vito Fazzi di Lecce ha bisogno di interventi mirati per offrire il servizio di assistenza sanitaria adeguato ai cittadini. Le carenze non mancano, si sa da tempo, e queste sono appesantite dalla chiusura nel Salento di alcuni ospedali, in particolare il vicino di Campi Salentina. La situazione è difficile, soprattutto al pronto soccorso, dove ogni giorno sono circa 250 gli interventi a fronte di un numero di personale troppo esiguo. Di questo si è parlato attorno al tavolo, proprio tra le mura del pronto soccorso leccese, tra i dirigenti dell'ASRE e la vicepresidente della Regione Puglia, Loredana Capone. Non si può più attendere oltre. La questione sanità nel Salento, come in tutta la Puglia, è il problema dei problemi e va affrontato, non con minacce di gesti estremi, consiglia il commissario dell'ASRE di Lecce Mellone, ma razionalmente e con scelte coraggiose. Direttore, ieri in Commissione Sanità a Bari il suo collega dell'ASRE di Bari ha minacciato di fare gesti estremi perché la situazione è al collasso. Lei ritiene di ribadire questa posizione? La segnalazione che faceva il collega Mimmo Colasanto è una segnalazione sicuramente grave, adeguata alla gravità del momento ed è condivisibile nel suo spirito. Dopodiché il collega Mimmo Colasanto, come me, come tutti i direttori generali, i commissari straordinari attualmente in carica nelle ASLE, sanno che tutte le volte che viene compromesso un servizio pubblico essenziale, il direttore generale o chi ne fa le funzioni si assume la responsabilità di non interrompere servizi pubblici essenziali e di farsi carico di un'eventuale violazione, di un'eventuale violazione di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti e dinanzi al magistrato. Questo lo facciamo noi, lo facciamo quotidianamente, lo fa anche il collega Mimmo Colasanto, lo fanno tutti i direttori generali delle ASLE. Nessuno di loro ha mai interrotto servizi pubblici essenziali per il blocco delle assunzioni. C'è un problema in generale che la Regione, ma la Regione l'ha già capito, ma il Governo nazionale deve, e quando dico deve dico deve, cioè non dovrebbe, ma deve farsi carico di una situazione in cui qualsiasi manovra di rientro non può incidere sull'area dell'urgenza e dell'emergenza. Quindi le aree dell'anestesia di animazione, le aree della chirurgia d'urgenza, le aree del pronto soccorso sono certamente aree sulle quali qualsiasi manovra di contenimento della spesa diventa immediatamente manovra di contenimento, manovra di smantellamento di servizi pubblici essenziali e quindi di diritti inviolabili dei cittadini. Quali le problematiche più emergenti qui al Vito Fazzi di Lecce? Con riferimento all'area dell'emergenza urgenza è necessario mettere i colleghi che si occupano dell'area critica, cioè dei codici di maggiore urgenza, nelle condizioni di potersi dedicare veramente a queste. E quindi l'obiettivo prioritario è quello di separare il più possibile i percorsi dei cosiddetti codici bianchi e verdi da quello dei codici gialli e rossi. Per questo motivo, d'intesa con il Direttore Generale, stiamo procedendo ad aumentare il numero dei medici di continuità assistenziale che potranno occuparsi dei codici bianchi e dei codici verdi allo scopo di non distogliere i medici che si occupano invece dell'area critica dalle urgenze più importanti. Nello stesso momento stiamo verificando la possibilità di incrementare il numero dei medici di pronto soccorso dedicati all'area critica, anche allo scopo di poter gestire il doppio dei posti di osservazione breve, che attualmente sono quattro, portarli almeno ad otto, e quindi rendere più completo e più funzionale il percorso dell'osservazione breve, emergenza ed urgenza. Inoltre, nelle prossime settimane avremo modo di aggiudicare il nuovo apparato radiologico da dedicare esclusivamente al pronto soccorso e abbiamo dei tempi tecnici che necessariamente dobbiamo rispettare. Contiamo entro la fine di quest'anno di dotare il pronto soccorso di un'apparecchiatura radiologica dedicata che potrà servire a evitare che i pazienti che necessitano di indagini radiologiche debbano essere trasportati all'interno dell'ospedale sottraendo ulteriore personale di assistenza dalle esigenze legate al pronto soccorso. Vicepresidente, qui la situazione è drammatica. Cosa si intende fare? In realtà c'è un'emergenza dovuta al fatto che non sempre i servizi territoriali, i servizi ospedalieri si organizzano nella maniera integrata per funzionare bene ma queste emergenze si risolvono con la buona volontà, con la disponibilità, con grandi capacità organizzative. Abbiamo fatto un incontro proprio per questa ragione, per risolvere queste emergenze sia sotto il profilo dei posti letto relativi al periodo di osservazione breve sia sotto il profilo del rapporto tra codici bianchi, codici verdi e continuità assistenziale sia sotto il profilo della radiologia dedicata, lo vedrete, sentirete loro le soluzioni sono sul campo e sono anche a breve termine. Io credo che il primario Fracella che ogni giorno è destinatario di richieste di miglioramento organizzativo e che a sua volta si rivolge alla direzione generale perché queste richieste siano assolte oggi possa decisamente ritenere di aver fatto un passo avanti.